Primi minuti in grigio di Matteo Chinellato, arrivato davvero da poco qui alla Michelin. Il racconto quindi di questa nuova esperienza e soprattutto le tue aspettative? Sono molto felice, è una scuola davverente forte, è una società importante. Appena ho saputo dell'ingressamento di questa società, non ci ho perso due volte a venire per dimostrare il mio valore. Ringrazio per la fiducia tutta la società e sono contento di essere qua. Prima punta, seconda punta, uomo d'area, le tue caratteristiche? Prima punta da area e anche di movimento, mi piace fare un po' tutto lì davanti, sacrificarmi per la squadra e dare sempre il massimo. Bene arrivato. Grazie.